Potrebbe essere forse l'ultima batosta, cioè la Pasqua in rosso? Eh sì, l'ultima batosta, noi siamo pronti adesso ad accogliere i nostri clienti per pranzo in una maniera un po' triste e un po' mesta, diciamo, purtroppo è così. La Pasqua, ripete, la Pasqua dell'anno scorso, quest'anno forse sicuramente con qualche esperienza in più, con qualche, siamo tutti un po' più pronti ad affrontare questi problemi, però la realtà finale è che siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alle bicchiere, è tutto pieno, non ce la facciamo più. L'aspetto liquidità è un aspetto che ormai è diventato primario, io credo, io non voglio parlare di soldi, però la realtà è un po' questa. Il primo punto per quanto riguarda il mio settore è la liquidità. Abbiamo grattato tutti i mesi, tutti i giorni, in tutti i momenti, cercando di trovare la soluzione migliore, ma alla fine dei conti si arriva qua. Bisogna trovare una soluzione che ci possa permettere di andare avanti e di sopravvivere, perché se mogliamo è la fine. La ristorazione è un cardine fondamentale del turismo e della cultura italiana. C'è proprio l'immagine anche dell'italianità nel mondo e non ci dobbiamo mai dimenticare che non è solo una questione di ristorante, ma c'è anche poi tutta la filiera dietro, perché ovviamente quello che si porta in tavola, soprattutto su chi poi, come anche lei, sceglie di portare anche cose del territorio, di piccoli produttori, è tutto un settore che è in crisi. E se un anno fa c'era forse la prospettiva, la speranza, adesso l'umore, ma anche il portafoglio, è ben diverso. L'umore, il portafoglio è diverso come ho detto prima, l'umore è molto diverso, nel senso che l'asporto funziona, lo facciamo andare, chi si è, noi per esempio ci siamo allenati dall'inizio, abbiamo creato un portale, una clientela, un indotto, tutto un mondo che ci ha portato la possibilità di poterlo fare, però non è il nostro lavoro. La realtà è questa, il nostro lavoro è essere vestiti così, di là, nel caldo, nel fumo della cucina, e le mie ragazze che sono in sala servire i clienti con un sorriso. Questo è il nostro lavoro. E se non torna, non c'è trippa per gatti. Costa, un altro punto è quello legato ai ristori, perché diceva lei prima, non voglio parlare troppo di soldi, però a questo punto, dopo un anno, bisogna parlarne, perché tante, tantissime attività sono in crisi e rischiano veramente a questo punto di chiudere, senza considerare quelle che purtroppo hanno già chiuso. Questi ristori arrivano, non arrivano? Quest'intervista dovevamo farlo, come dicevo prima, settimana prossima, perché dovremmo sapere qualcosa di più. Le piccole indiscrezioni sono che il conteggio e la valutazione di questi sostegni o ristori che dir si voglia sarà su base annua e non come nel precedente governo sull'aprile 2019-2020. Sicuramente su base annua avrà un valore più reale per tutti, sarà uguale per tutti, perché chi aprile lavora, chi aprile non lavora, quindi sono parametri un po' sbagliati, devo dire la verità. Quindi sarà più reale per tutti e più giusta. Ci devono essere, che sia in un modo e in un altro, ci devono essere, non sappiamo ancora in che percentuale, in che maniera, in che modo, ci devono essere. Ci devono essere degli aiuti concreti per quanto riguarda fiscalizzazioni, tutto questo pacchetto che ci deve aiutare in qualche modo e, come dicevamo prima, molto importante, secondo me ci deve essere la speranza. Ci deve essere la speranza di frasi dette dal nostro Presidente del Consiglio per un futuro che ci possa dire ce la facciamo, andiamo avanti, stiamo arrivando, ci siamo. La speranza vuol dire anche dire quando saremo bianchi cosa succederà, quando apriremo la sera cosa succederà, che possibilità avremo. Questo, parlare un po' di futuro, secondo me serve anche nei momenti più bui. Grazie.